In diretta da Alicata, dal campo poker Silenzio assoluto Silenzio assoluto Silenzio assoluto, una macizzata E' qua che si è, dà quello soccatore e il soccatore Non si fanno il nome, non si fanno il nome Notocolo Vediamo la situazione, allora S c'ha, vediamo, 30 euro Passiamo all'altro S, quanto c'hai? Passiamo a Francesco 154 Quanto c'hai? 154 che ci suggerisce il tuo cassiere E per ultimo Scaduto Siamo 51 Un attimo, io non apro maggiore Che sai? Si inizia Non lo so che c'hai Busse, si Apro di piano Non lo so che c'hai Lo che fa? No, io non apro maggiore No, io non apro maggiore No, io non lo so che c'hai Ci ho aperto Vuoi giocare? Sì, sono giocato E' qua, qua Ci ho guardato Lo che fa? Si può puntare ancora? No, ora no Non tanto Quante card? Due Due Quante card? Due Tu Ma dobbiamo Vabbè Che dice Chi c'è No, non dico No, non dico Non dico Non dico Non dico Cosa dico Non dico Cosa dico Non dico Non dico Non dico Cosa dico Non dico Non dico Cosa dico le soldi allora, allora, che mi ha fatto? si può giudere su un altro rispetto? mi ha scambiato un euro e beh, è una cura, vedi che ci dite solo faccio la catella chiamata così oh, dai, ah, ce ne tocca non vedi, non vedi, non vedi, non vedi io un euro a lei quando c'ho la chiesa io due euro due euro? 4 euro 4 euro 6 euro 6 euro 6 euro ho incendito tutti 10 euro io smettono non vuol dire che non puoi no il punto di vista quindi il punto di vista non è molto per questo che cambia il titolo che fa ma non non è una parola che si chiara tu e te 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 picciate però uuuuh 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 quando c'è il senso? aspetta no 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 da riprendere aspetta 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 le casse di salto cosa ne ho giocato? se ne ho giocato? quando c'hai? quando c'hai? 100 1 2 3 150 150 150 150 100 150 8